benvenuti in questa guida top 7 zerbini di consiglio pro tra questi 7 abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo mv zerbino cocco naturale esterno questo zerbino è fantastico è realizzato in cocco naturale ed è antiscivolo quindi non c'è bisogno di preoccuparsi di scivolare il bordo verde lo rende ancora più attraente il designer a schiafango assicura che la sporcizia venga rimossa dalle scarpe punteggio 73 punti info in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo zerbino sky ingresso esterno questo zerbino è una scelta eccellente per l'ingresso di casa è realizzato in materiale antiscivolo resistente e di alta qualità con un design moderno ed elegante la sua superficie è assorbente e asciuga rapidamente le scarpe bagnate il tappeto è anche facile da pulire e mantenere punteggio 77 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo star wars dart fener benvenuti questo zerbino star wars è un must per tutti i fan della saga la grafica è di alta qualità e l'immagine di dart vader è ben definita il tappeto è anche molto resistente e durevole quindi durerà a lungo un ottimo acquisto per chiunque sia un fan di star wars punteggio 81 punti info in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare zerbino uccelli colorati fibra di questo zerbino è una scelta eccellente per l'ingresso di casa la superficie antiscivolo in pvc e fibra di cocco offre una presa sicura mentre il design minimalista originale aggiunge un tocco di stile all'ingresso i colori vivaci degli uccelli rendono questo zerbino unico e divertente punteggio 90 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo casa tessile zerbino rettangolare in questo zerbino è una scelta eccellente per l'ingresso di casa realizzato in cocco naturale è resistente e durevole il fondo in gomma antiscivolo offre una presa sicura la sua forma rettangolare e il colore allegro vino lo rendono un elemento decorativo perfetto punteggio 90 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo nevada zerbino tappeto asciugapassi zerbino questo zerbino è fantastico è di buona qualità antiscivolo e resistente alle intemperie il design moderno e minimalista si adatta a qualsiasi ambiente la superficie in fibra di cocco assorbe bene l'acqua e lo sporco ottimo acquisto punteggio 91 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica tappetino antiscivolo in cocco questo tappetino antiscivolo in cocco è una scelta eccellente per le aree esterne coperte la fibra naturale sostenibile è resistente e durevole mentre la superficie antiscivolo offre una presa sicura il 100 per cento di cocco assicura una qualità superiore e l'antibatterico mantiene l'area pulita punteggio 93 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale www.scivolo.com.info